Ciao a tutti da Vittorio, scusatemi ma le ultime 12 ore sono state terribili, ho avuto una febbre bruttissima, stanotte ho dormito zero, sono raffreddadissimo, vabbè, cercherò di fare meglio in questo video, per cui perdonatemi se la voce non è proprio bellissima. Io intanto ringrazio i due nuovi abbonati, Sergio Vicky che era già abbonato ma ha cambiato email e si è riabbonato, grazie, e Carlos che è invece un nuovo abbonato da zero, grazie mille, il supporto degli abbonati è fondamentali, grazie per esservi uniti a questa comitiva e vi ricordo che c'è il canale Discord proprio per voi, per interagire con me, certo, ieri non c'ero perché stavo malissimo, però nei prossimi giorni, già oggi pomeriggio, dovrei tornare in attività. Parlando di ovviamente Lazio volevo darvi due notizie, la prima è che la Lazio si è liberata tra virgolette di un esubero, Marco Santonio, il brasiliano comprato solo due anni fa, giusto, è andato a San Paolo, doveva andare a Flamengo sembrava tutto fatto, poi nell'ultima settimana il silenzio, mancato l'annuncio e l'altro ieri Marco Santonio è sbarcato in Brasile però a San Paolo per firmare appunto con il San Paolo. Il club brasiliano ha firmato un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo se scattano alcune condizioni, in particolare Marco Santonio deve giocare il 50% delle partite, almeno 45 minuti in questo 50%, e il diritto diventa obbligo di riscatto fissato a circa 4 milioni e 2 che con il prestito oneroso raggiungerebbero i 5 milioni per cui la Lazio rientrerebbe dello sforzo economico fatto per prendere il brasiliano Marco Santonio. Io onestamente pensavo che quest'estate venisse almeno a Doronzo Marco Santonio perché nel calcio di Baroni poteva avere una logica però le cose non sono andate come ci aspettavamo, Marco Santonio saluta la Lazio, speriamo a titolo definitivo in modo tale che la Lazio si tolga di un problema importante. Ma a proposito di problemi parliamo del mercato d'entrata perché negli ultimi giorni ci sono state tante voci, si è parlato di Simeone, beh Simeone è stato proposto alla Lazio, non è la Lazio che l'ha cercato perché la Lazio da quel punto di vista è a posto, poi si può discutere se è veramente a posto o no, però la Lazio ha due centravanti, questo è quello che ha deciso Marco Baroni e sono Tati Kasseianos e Noslin, saranno loro due centravanti alla Lazio a cui forse si aggiungerà un giovane per fare un po' di gavetta, per fare un po' di esperienza, ma sarà il terzo e Simeone ovviamente non rientra in questa categoria. Simeone è stato proposto alla Lazio perché col Napoli di Conte rischia di giocare zero, però la Lazio ha detto semplicemente no grazie. L'obiettivo della Lazio è gli orienti o meglio un esterno sinistro che possa fare la riserva e giocare quando serva a Mattia Zaccagni. Perché è vero, c'è una giocata a sinistra nell'ultima partita, ma nei piani di Baroni c'è una Isaksen, sono gli esterni destri, Zaccagni e Mr. X è l'esterno sinistro, Pedro sarebbe il trequartista, Pedro avrebbe chiesto a Baroni di non giocare più sulla fascia e di fare il trequartista, trequartista dove secondo me ci sono Dele Basciru, Pedro, anche se non lo so quante partite possa fare Pedro, Castrovilli e eventualmente Guendosi. Quindi trequartisti centrali siamo messi molto bene, o meglio numericamente siamo messi molto bene, manca l'esterno sinistro. La Lazio ha l'accordo con l'Oriente, ma anche a quello col Sassuolo, il problema è che col Sassuolo c'è una bella differenza, Sassuolo come al solito sparava alto, 15 milioni di euro, la Lazio ne offriva 5, per cui capite che c'è una bella differenza, un bel abisso fra domanda e offerta. Al momento non sono sicuro che la Lazio chiuderà l'Oriente, se dovessi scommettere 5 euro vi dico che secondo me nelle prossime ore o giorni uscirà un nome nuovo e sarà quello l'obiettivo finale della Lazio. Però la Lazio cerca un esterno dinamico, veloce, che possa sostituire Zaccagni nelle partite in cui Zaccagni dovrà riposare. Vediamo, vediamo come andrà la trattativa, ripeto, è molto complicata, Sassuolo anche se il retrocesso chiede tanto, la Lazio non vuole arrivare a 15 milioni per l'Oriente, perché il giocatore onestamente non so neanche se li vale, verrebbe a fare la panchina alla Lazio, certo sì a giocare, alternarsi con Zaccagni in certe partite, magari in Europa League, non lo so, però sicuramente sarebbe un'alternativa a Zaccagni, quindi non un titolare, spendere 15 milioni per un giocatore del genere, mi sembra eccessivo, però questa è la situazione, la Lazio ha deciso, l'Oriente obiettivo numero uno, l'offerta è importante, c'è un bel gap fra domanda e offerta, vedremo come si chiuderà questa trattativa, ripeto, secondo me, se non si chiude entro questo weekend, anche prima, la Lazio potrebbe virare sul nome più economico di l'Oriente, staremo a vedere, voi che ne dite? Scrivetevi un commento qua sotto e se sto meglio ci vediamo alle due con un altro video, grazie ragazzi. Grazie.